Dal 1976 immaginiamo, progettiamo e produciamo mobili per ufficio, ma c'è di più. C'è una storia familiare, umana, italiana, fatta di tenacia e indipendenza. C'è un'anima gentile con una personalità forte, sempre pronta ad ascoltare collaboratori, clienti e fornitori. Ci sono le persone che ci scelgono non solo per i nostri prodotti, ma per chi si fidano di noi. Ma c'è ancora di più. Lo chiamiamo WorkStyle. È il nostro modo di portare lo stile italiano nel mondo del lavoro, ridisegnando la relazione fra spazio, tempo, casa e ufficio. LAS. Ismore. Office Furniture since 1976.